Ben tornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Tra i progetti c'è quello di aprire Palazzo Pirelli alle persone diversamente abili. Il primo appuntamento è stato con i rappresentanti della sezione bergamasca dell'ente nazionale Sordi. Dopo aver partecipato a una lezione sul ruolo e le competenze del Consiglio, la delegazione ha visitato il Palazzo e la mostra l'età del Grattacielo, che celebra i 60 anni del Pirellone. Intensa e diversificata è stata l'attività degli ultimi cinque anni del Consiglio per le Pari Opportunità, l'organismo regionale a tutela della democrazia paritaria. Abbiamo incontrato la Presidente Ombretta Colli. Credo che comunque parlare di donne e cercare di risolvere i loro problemi non è mai ozioso, perché ogni giorno c'è qualcosa che riguarda una donna, c'è una violenza sulla donna, ma la violenza poi non è sempre botte da orbi, è anche non farla accedere a determinati posti di lavoro, farla sempre guadagnare un po' di meno. Il lavoro da compiere è ancora molto, ma la strada è aperta e a nome del CPO, che è questa commissione, noi dobbiamo esprimere auspici che chi ci sostituirà troverà una commissione già collaudata, già pronta a fare cose nuove. Si sono svolte domenica a Magenta nel milanese le iniziative legate al 159esimo anniversario della storica battaglia di Magenta. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale, ha avuto come momento più significativo la 24esima rievocazione della storica battaglia, con la ricostruzione di alcune fasi del conflitto, che ha visto l'impiego di gruppi con uniforme storiche e salve d'arme d'epoca. Centinaia di figuranti, con soldati, vivandieri e popolani. L'intera giornata è stata scandita da sfilate, fanfare, tra cui quella dei bersaglieri, e cerimonie commemorative. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori.